questo tema dando poi un assist Giorgio di domenica di me mette in campo anche che forse una delle chiavi che c'è la domanda sta lì quanto oltre gli aspetti ovviamente tecnici funzionali sociali tecnologici quanto gioca un ruolo qualitativo ovvero il ruolo dell'architettura dimensione compositiva ma il ruolo del design perché se c'è un posto dove ovviamente design potrebbe ancora di più avere un significato di contensibilità sociale e laddove questi ruoli sono proprio misti di tecnologie di funzionalità in più mixare le tecnologie perché ormai la sanità anche in questa interfaccia è digitale fisica quindi forsemente molte esperienze internazionali hanno sempre messo l'accento su quel che non sono mai luoghi come dire che puntano solo sulle efficacità tecnologica e funzionale ma il design e l'architettura a livello compositivo e tu come hai detto più volte anche la sua capacità di creare un luogo molto più ampio sono chiavi determinanti c'è questa attenzione sensibilità in questo percorso o sappiamo che poi sempre molto difficile perché sono tutti i gradi di equazioni che si aggiungono poi ahimè questo viene come spesso c'è nel nostro paese e come lo vediamo nelle scuole è reso come dire estremamente basico per dire è faticoso però quell'aspetto lì personalmente penso che sia invece la vera chiave cioè giorgia che ha l'importanza che va oltre diciamo la parte puramente estetica del ruolo del design intanto diciamo ti confermo che per quanto mi riguarda l'architettura è un generatore di benessere di salute oggi non si parla solo di salute ma si parla di well-being si parla appunto di benessere in modo più esteso anche perché il concetto della salute passa sempre più da un approccio esclusivamente medico un approccio sempre più sociale cioè noi sappiamo che la stragrande maggioranza delle malattie cronico degenerative in generale si definiscono proprio da fattori socio economici dall'urbanizzazione dalla globalizzazione e dall'età della popolazione questi sono i principali indicatori quindi lo dice sempre anche renzo piano l'architettura contribuisce a rendere felici le persone ed è molto importante questo perché in effetti se pensiamo anche un po alla storia a me piace andare a guardare un po sempre la storia perché sono convinto che se vogliamo guardare il futuro dobbiamo conoscere molto bene la storia la contemporaneità e se pensi un po all'architettura ha sempre giocato un ruolo importante sul benessere delle persone se tu pensi anche alcuni sistemi primi sistemi di reclusione come quello che i fratelli bentane avevano appunto ideato era basato diciamo il meccanismo della punizione proprio su uno spazio che non fosse performante quindi uno spazio buio uno spazio anecoico esatto poco senza suoni senza diciamo alcun livello di comfort quindi lo spazio veramente è il vero generatore di benessere e di salute quello che la riflessione che fai tu su queste nuove attività queste nuove architetture per quello che vedo io oggi siccome la sanità dipende poi dalle regioni nel nostro paese corrono per attuare il pnrr e quindi stanno realizzando tanti progetti per costruire queste case però in un'ottica diciamo in questo momento basata sulle funzioni assistenza io penso che il processo di solito utilizzano appunto edifici esistenti ma anche sul nuovo in cui non si usa tutta la superficie ma si usa una parte io penso che poi il passaggio successivo che si capirà quando si inizieranno ad attuare sarà quello di aggiungergli delle funzioni quindi sono processi di cambiamento un po' lenti che devono essere un po' se vuoi sedimentati nella popolazione e che a volte proprio nell'applicazione pratica di questi spazi si capirà che va ancorato appunto qualcosa questo ci tengo a dire che quando tu prima dicevi il rapporto tra Politecnico di Milano e il Comune ecco io penso che il punto di forza appunto della ricerca che facciamo al Politecnico è che è una ricerca che non è solo una ricerca di base ma c'è anche tutta una parte di ricerca applicata quindi la vera sfida è poi applicare le conoscenze le ricerche l'innovazione a dei casi concreti e quindi col Comune lo stiamo facendo ma lo facciamo anche con grandi partner industriali e quindi diciamo attraverso questa sinergia tra il mondo dell'impresa il mondo della ricerca e le istituzioni riusciamo veramente a portare innovazione e vorrei fare una domanda che mi riguarda anche da vicino benissimo il modello sanità Lombardia e Milano le istituzioni pubbliche e private conosciamo e sappiamo questa grande spinta io però sono nella provincia ai confini dell'impero sono nato nel Verbanese ci sono tre città che danno il nome a una provincia che è un accrocchio da un certo punto di vista ci sono tre ospedali Omenia, Verbagna e Domodossola da 50 anni si parla dell'ospedale unico del grande ospedale si fa o non si fa la regione, la politica, l'amministrazione, elezioni vinte, perse cos'è che bisognerebbe fare per fare tutto ciò bene che non è in città? in città ci sono come dicevi spazi già determinati storicamente dedicati a quelle funzioni, spazi nuovi, campus nella provincia così come nel sud nelle isole si parla o di prevenzione o di emergenza bisognerebbe parlare di presidio forse poi dopo se uno ha bisogno di una visita specializzata va dove deve andare però c'è anche come dire il territorio ecco allora ci sono dei modelli funzionali che potrebbero essere applicati quella cosa dei 50 anni mi ha colpito molto se fossimo capaci di realizzare ma questo è un tema aperto da tanti anni gli ospedali diciamo oggi quello che è importante sostanzialmente cercare qual è la vera vocazione che l'ospedale ha perché oggi tu devi considerare che in ospedale ci si accede attraverso due modalità la prima è si dice per elezione e quindi vuol dire che è programmato l'accesso l'altro si entra diciamo su sistema di emergenza urgenza e quindi tu oggi anche la popolazione la cittadinanza scegli di andare in quell'ospedale perché sa che in quell'ospedale trovo delle eccellenze e quindi è importante perimetrare un po' è inutile sovrapporre funzioni a distanza di qualche chilometro molto meglio avere un ospedale forte con tutte le tecnologie anche perché a volte diventa quasi più un rischio andare in un ospedale che non ha diciamo tutte le competenze e anche le tecnologie più all'avanguardia quindi io penso che ci sono diversi livelli diciamo i cosiddetti LEA i livelli essenziali di assistenza ci devono essere gli ospedali della ricerca e dell'innovazione ci devono essere anche gli ospedali legati se vuoi solo all'assistenza ma i due mondi si devono ovviamente parlare però ti devo dire che la replicazione dei servizi è un appesantimento e quasi un rischio se vuoi per la popolazione cioè andare a partorire un ospedale che fa 100 parti in un anno è molto meno sicuro che andare in un ospedale dove ne fanno 100 al giorno e quindi il tutto sta intorno al tema iniziale è la localizzazione delle strutture importanti che siano accessibili, la precondizione è l'accessibilità che oggi non è più solo un'accessibilità fisica e quindi che ci possa arrivare l'auto, il mezzo pubblico ricordo che l'ospedale è una delle poche funzioni urbane in cui la macchina ci deve arrivare perché comunque sia per chi ci lavora il personale tecnico e sanitario sia per i pazienti è una funzione in cui le macchine devono arrivare ma deve arrivare il trasporto pubblico ma oggi si parla molto ovviamente di accessibilità anche legata alla digitalizzazione e quindi oggi sappiamo benissimo che la grossa sfida è proprio il tema della digitalizzazione in sanità e quindi la sfida è a riportare l'ospedale all'interno delle case, delle persone. C'è un tema delicatissimo, avevamo avuto modo di parlare giusto nell'evento di Camogli per il quale noi siamo molto sensibili che affianca quello che può essere ovviamente un tema diciamo più immediato della sanità quando sulla malattia è evidente. C'è un tema che si lega poi alla questione della città sull'utologia contemporanea di quelle che noi chiamiamo come la dimensione un po' invisibile della malattia che sono quelle malattie che sempre di più crescono dal punto di vista psicologico, psichiatrico quindi c'è questo tema di grande disconnessione, noi viviamo una società che è apparentemente connessa digitalmente ma in realtà è sempre più disconnessa da vari punti di vista e questo sta palesando in maniera estremamente più forte dei gravi problemi di cui nessuno se ne occupa dove c'è un legame estremamente stretto dal nostro punto di vista da parte della città, del territorio, dell'ambiente ma soprattutto la grande, ahimè, evoluzione negativa è che questo colpisce sempre di più sfere di giovani questa condizione diciamo di problematico, di questione di malattie che ripeto invisibili perché non vengono immediatamente definite ma soprattutto non vengono per niente porta, come dire, ormai l'abbiamo visto anche, c'è una lettura, un'analisi complessa particolare per quello che sta succedendo oggi in Francia ultimamente a questione che non sono più da catalogare rispetto a una visione di dieci anni fa perché c'è qualcosa di molto di più allora, quanto questo che è un aspetto sicuramente difficile tu hai detto un paio di volte in maniera chiara questa condividiamo quanto il tema oggi è occuparsi del benessere con una parola importante, quindi trasversale che quindi non può non implicare questa condizione comprendere quanto l'aspetto diciamo psicologico che poi a me si forse anche nella psichiatria sia un tema estremamente forte che rischia, se non affrontato, di far crescere come dire il numero delle persone che poi via via si immaginano ma non nell'immaginazione quella più evidente, chiara e più facile quella più latente e invisibile che potrebbe essere il vero grande problema del presente e del futuro quanto questo è un tema comunque noto e con difficoltà da raccontare o quanto questo invece è un tema che magari già proprio per tutti gli indicatori che ho trovato l'indicatore molti indicatori ne conosciamo anche alcuni diciamo che misurano gli umori entrando nello spazio intercetto insomma per quello che possano essere ovviamente questi sono anche elementi qualiattivi per comunque porsi il problema questo secondo me è molto delicato e questo questa riflessione questi temi che tu appunto hai illustrato oggi sono diciamo di grande rilevanza e diciamo a tutte le grandi aree urbane si stanno interrogando proprio sul tema dell'inclusività e quindi inclusività vuol dire non solo legato diciamo alle diversità e quindi legato se vuoi anche solo alle disabilità di tipo fisico ma oggi c'è tutto il tema delle disabilità legate alla salute mentale che ahimè sono in forte crescita esponenziale questo in tutte le fasce d'età tenendo conto che nelle aree urbane la popolazione tende sempre più ad invecchiare tenendo conto che aumentano appunto le disabilità mentali che sono quelle che poi magari percepisci di meno ma che sono quelle forse anche più difficili se vuoi da contrastare ecco sulle disabilità mentali in realtà lo spazio fisico fa molto in questo momento fa più della medicina nel senso che se tu prendi appunto alcuni tipi di demenze non so la più nota è legata all'Alzheimer oggi la medicina sostanzialmente ha dei farmaci che tendono ad rallentare se vuoi il decadimento cognitivo ecco l'architettura secondo me invece ha un ruolo ancora più importante perché banalmente la percezione dello spazio ti aiuta a mantenere diciamo allenata la sfera appunto cognitiva sappiamo per esempio che chi soffre di Alzheimer uno dei cinque sensi che perde più lentamente è quello legato all'olfatto e quindi si creano per esempio i giardini proprio per gli Alzheimer per garantirgli appunto di mantenere queste capacità cognitive e la grossa sfida ad esempio noi stiamo lavorando su un progetto per i ragazzi autistici nel dargli l'autonomia almeno del percorso casa scuola e quindi attraverso tutta una serie proprio di aspetti fisici legati alla città che li mettano in sicurezza e gli garantiscono di avere almeno l'autonomia di poter arrivare in un luogo diciamo di socializzazione e di formazione personale molto importante. La grossa sfida secondo me appunto è però di utilizzare degli strumenti che sappiano misurare poi la capacità della città veramente di saper produrre salute di essere inclusiva e quindi oggi le città mettono in campo appunto quello che nella medicina si chiama evidence based medicine oggi si parla un po' se vuoi in maniera provocatoria di evidence based design oppure di evidence based practice cioè vedere poi nella pratica alcune soluzioni se funzionano realisticamente e si dice anche che l'architettura diventa un po' protesica cioè mette in sicurezza se vogliamo tutte le persone che comunque noi sappiamo che anche a parità di età a parità di sesso ognuno di noi è diverso e quindi ecco perché oggi si parla di design for all quello di inclusive design soprattutto nell'area urbana e perché è lì che si concentra la stragrande maggioranza della popolazione perché dobbiamo essere in grado di mettere il maggior numero di persone in grado di poter nelle condizioni di poter utilizzare il più possibile la città. C'è la confusione semantica che ti mette che ti fa andare veramente fuori parlavi della memoria l'olfatto è uno dei sensi che è molto legato alla memoria ovviamente ma mi veniva in mente mentre parlavi un grande mnemonico russo non ricordo il nome lui si immaginava una strada con dei cippi dei cartelli dei segnali e associando le informazioni a questa strada immaginaria con dei segnali riusciva a ricordare alla picco della mirandola cose assurde allora evidentemente questa confusione ci dà molto fastidio non ce ne accorgiamo. Io chiederei una domanda difficile ma... Fede, fino adesso non lo fai. Per quanto è facile ma... Questo abbiamo scherzato. Vi hanno detto come tu hai detto che ed è vero dopo il vista di tutto questo impegno in Italia non sono subito l'impegno in Politecnico la città Milano sta facendo come hai detto c'è poi, non so se è ancora aggiornata questa statistica, tutto questo avviene in una città che fino a alcuni mesi fa era la seconda città più inquinata non so se del mondo del mondo dell'Europa quindi c'è una condizione che vi mette di nuovo come il 500% vuol fare nella città che vorrei nel tema del dialogo con la città di questa condizione per esempio di Milano di essere questa città che sicuramente ha tutta questa serie di spinte e attenzione però poi continua ad essere una città ad oggi e non so se più il secondo o il terzo comunque molto inquinato. Questo ci porta inevitabilmente a valutare delle scelte fondative talmente radicali perché altrimenti la sensazione, la nostra sensazione è che siamo in un periodo storico in cui bisogna essere radicali nel senso delle scelte fondative, non radicali in alcuni approcci, nel senso che è talmente comunque imploso un sistema di equilibrio che anche tutte le ottime azioni, le grandi azioni che potevano essere significative 10-15 anni fa, oggi si confrontano con un contesto ambientale al di là di quello sociale e urbano che non sono sufficienti quindi questa condizione è un po' disarmante che ti fa capire che la battaglia la battaglia epica impone una radicalità che esca un po' fuori anche da semantiche o da dispositivo a condizioni ma con scelte molto radicali un po' come tu prima dicevi bisogna abitare non con un piccolo giardino ma per essere radicali per organizzare la quale la considero come un'azione radicale di questo per chiudere e poi dire sì o no c'è coscienza e quindi c'è coscienza ma allo stesso tempo c'è coscienza quindi vedremo cosa succederà o c'è una coscienza per cui ci si guarda in maniera sincera dicendo che non è più possibile sistemare le cose facendo molto bene i compiti come una ragazza a liceo e qui serve qualcosa di veramente più radicale ma diciamo che la risposta è molto complessa perché hai sfiorato veramente tantissimi temi però bisogna partire da un dato di fatto è vero che Milano come tante altre aree urbane è una città che da un punto di vista climatico e di qualità dell'aria pone delle criticità lo dicevo prima oggi la grossa sfida oggi la popolazione vuole vivere in città con tutte le comodità e servizi della città ma lo dicevo proprio in apertura con le caratteristiche ambientali che trovo fuori della città quindi una grossa sfida su cui le amministrazioni oggi si devono sempre più concentrare questo però bisogna anche essere realistici cioè rispetto a 20 e 30 anni fa le nostre città sono molto meno inquinate noi prima avevamo le industrie dentro le città non c'erano alcune politiche ambientali non c'era il monitoraggio della qualità dell'aria e quindi in generale questo vale per Milano ma vale un po' per tutte le città la qualità dell'aria è migliorata e quindi questo è un dato di fatto come di fatto in quasi tutte le aree urbane la qualità urbana è migliorata nel senso che sono poche le città in cui dico è peggiorato diciamo lo spazio pubblico cioè la tendenza delle grandi aree urbane comunque è di rigenerare il più possibile appunto il tessuto urbano a volte si riesce a volte non si riesce però difficilmente vedi un peggioramento la stessa Milano sullo spazio pubblico ha fatto dei passi diciamo da gigante su Milano nello specifico c'è anche da fare una considerazione legata diciamo alla morfologia del territorio in cui si trova Milano quindi tu puoi mettere in campo tutte le azioni delle politiche ambientali ma quando ti trovi in una conca diciamo piana è proprio una questione legata a fisica è difficile o tiriamo giù il turchino come si voleva fare è difficile cambiare la morfologia di dove si trova la città indubbiamente però hai detto una cosa giusta bisogna in questo momento avere il coraggio di fare delle scelte politiche forti e io penso che questa amministrazione adesso stia veramente accelerando in questa fase se vuoi finale anche di un mandato questa è la fase se vuoi più delicata più importante dell'amministrazione comunale in cui diciamo può veramente mettere in campo tutte le idee e i progetti che ci sono c'è il piano urbano di sostenibilità ci sono tutta una serie di azioni per esempio per me è importante andare a creare la sovrapposizione tra i piani urbanistici con i piani legati alla salute della popolazione andare a vedere come cambia la salute della popolazione in funzione appunto delle macroattività se c'è dove c'è il verde il parco urbano dove c'è un trasporto pubblico la speranza di vita della popolazione aumenta oppure si riduce però bisogna avere in questo momento il coraggio di dire appunto blocchiamo alcune situazioni riduciamo il numero delle auto restituiamo le aree verdi ai cittadini perché è il momento giusto per farlo il covid diciamo ha sensibilizzato tutti e quindi oggi siamo in grado di avere tutti gli strumenti che dimostrano l'importanza di tutelare la nostra salute attraverso azioni proprio strutturali della città e quindi bisogna farlo noi vediamo un'idea radicale per tutta la città le città soprattutto ovviamente europee che sarebbe radicale e cambierebbe automaticamente come un effetto domino il trasporto pubblico delle città deve diventare gratuito e questo vuol dire obbligare le persone a utilizzare solo il trasporto pubblico che a quel punto deve essere un trasporto ambientalmente e elettricamente sostenibile e che automaticamente comunque l'azione che costa meno di tutte le altre azioni di palliativo sono cambi cultura, approccio e ambiente che automaticamente diventerà quello deve essere il futuro città tutte le altre cose che sono le vie di mezzo è sempre un compromesso che poi accetta come dire la contaminazione negativa a serie di aspetti ma le città soprattutto europee, quelle italiane, grandi, sono pronte per questo si deve pensare a quello e se uno lo analizza economicamente è più vantaggioso quello rispetto all'effetto indotto che deve andare ad avere dei costi di manutenzione della città rispetto ad altri quindi una città europea, una città occidentale, una città oggi che traguardo il 2050 con questa azione che è un'azione politica, sociale, economica, ambientale ha cascato e va tutto il resto a quel punto poi non c'è la possibilità che tu dici politicamente non posso, devo far entrare quello che viene o no perché tu devi dare ovviamente gli strumenti gratuiti a quello tutto accessibile e che quindi automaticamente siano sostenibili e tu ti muovi nella soltanto in quel mondo e più spazio alle bici beh ovviamente quello che si può dire con questo che sarà la prossima sfida la prossima sfida del Politecnico e del Direttore e del Professore Stefano Capolongo ti ringraziamo grazie a voi grazie 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 Grazie.